Dammi solo un minuto Ha detto il consiglio comunale E adesso non abbiamo più i soldi per pagare Il servizio di trasporto urbano Ma è vero che è stata eliminata anche la corsa Che porta alla Villa Romana del Casale Guardi signor sindaco L'autobus della Savit è qui E molto probabilmente fosse l'ultima corsa per stasera Beh, così dire L'ultima corsa anche questo ultimo mese Suo di dicembre Si faccia il Natale da sindaco Metta qualche volta la fascia Ma poi dia le dimissioni Ha un modo per uscirsene da questa situazione In maniera molto ma molto dignitosa Grazie signor sindaco E ci faccia sapere Se questo veramente è l'unico autobus Che gira per la città Dammi solo un minuto